Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale di Sorin e a questo nuovissimo video Oggi siamo qua per fare l'enorme recappone con tutte le uscite che ci saranno nel corso del mese di giugno Sperando di sbagliarne il meno possibile e che ci siano meno slittamenti possibile ovviamente Ragazzi prima di iniziare vi chiedo solo ed esclusivamente una cosa, ovvero un like e un'iscrizione al canale Per voi un gesto completamente gratuito, per me il supporto più grande che mi possiate dare Ora invece andiamo con una brevissima sigla e iniziamo subito perché di cose di cui parlare ce ne saranno veramente tantissime Ed inizio subito col dirvi che giugno è il Pride Month, di conseguenza troveremo un sacco di uscite Boys Love E già da subito, iniziando da Star Comics come sempre, troviamo il debutto di Boys Run The Riot Un Boys Love che ha avuto uno straordinario successo soprattutto in America Classificandosi nelle prime posizioni per quanto riguarda le vendite dell'anno scorso Quindi potrebbe essere veramente un titolo straordinario che arriva anche qua da noi Dopodiché sembrerebbe essere giunto il momento anche del primo numero della saga delle sirene di Rumiko Takahashi E anche quello di Sunpei, nonostante sia arrivata notizia fresca fresca, lo slittamento di una settimana dal 22 al 29 di giugno La new edition di Sentail, dopo una marea di rinvii anche per questo titolo, dovrebbe arrivare con il primo numero Così come una novità assoluta invece del prossimo mese, ovvero The Decagon House Murders Un gruppo di ragazzi, vediamo all'interno di questa storia, che si troveranno su un'isola deserta Dove però iniziano a succedere cose strane e soprattutto misteriose E cose che vanno a ricollegarsi con dei pesanti misteri che hanno avvolto il passato di quell'isola Le ultime novità invece che saranno presentate a giugno saranno Run Away With Me Girl Che è uno Yuri, vi lamentate sempre che ne arrivano pochi, di conseguenza a giugno almeno uno sarà in arrivo E uscirà anche Until I Meet My Us Band, un boys love che verrà presentato sia in versione manga sia in versione romanzo Ed IQ che finalmente ritorna anche con l'edizione Collection Qua mi soffermo un secondo, perché me l'avete chiesto veramente in tantissimi sulle ristampe di IQ Secondo me arriveranno in concomitanza col cofanetto, quindi il primo cofanetto contiene mi sembra i primi 6-7 numeri Di conseguenza saranno ristampati gli stessi volumi anche singolarmente Sempre per l'edizione Collection arriverà anche il quarto cofanetto di The Seven Deadly Sins Mentre andando avanti con le altre serie regolari naturalmente non possiamo dimenticarci di Detective Conan e Shaman King Che a giugno vedranno l'uscita di ben 3 volumi, ovvero 19, 20 e 21 per il piccolo Detective Mentre 29, 30 e 31 per lo sciamano Proseguiranno anche Ariadne in the Blue Sky e Bakemono Gatari Monster Tail Entrambi arriveranno al volume numero 13 Mentre Car Captor Sakura, Darling in the Franks, Tower of God e Uzaki Chan Arriveranno tutti con il volume 5, così come in realtà anche la nuova edizione di Nui Asha Tornerà anche Kaiju Number 8 con il suo terzo volume È passato un po' visto che all'inizio avevamo preso il box con i primi due numeri Però è giunto il momento di andare avanti anche con questo titolo Neko Wappa dallo stesso autore arriverà al secondo nonché ultimo volume Dr. Stone arriva al ventesimo Mentre essendo un'uscita mensile arriverà anche il secondo dell'ultimate edition di Dragon Ball Ci saranno due uscite per quanto riguarda l'universo di Fairy Tail La nuova edizione arriva al volume numero 58 Mentre la missione dei cent'anni arriva al volume numero 10 One Piece supera la soglia dei cento volumi Che abbiamo visto neanche tanto tempo fa Arrivando col volume numero 101 My Hero Academia torna con il nuovo arco narrativo Tra l'altro settimana prossima Con il volume numero 32 Phantom Seer arriva al volume numero 3 Così come i 4 Cavalieri dell'Apocalisse e Rosenblad Volume 4 invece per il duro lavoro di Musubu e Trez Volume 10 per Mao e Record of Ragnarok 16 per The Ancient Magus Bride, Queen's Quality E Mobile Sweet Gundam 0083 Rebellion Concludiamo con una carrellata finale di titoli Che comprende Dai La Grande Avventura il volume numero 6 Living Room Matsunaga-san il volume numero 8 Shirayuki dai Capelli Rossi il numero 15 Ito Rijime Mairo 11 E Tsubaki Cholo Only Planet il volume numero 2 Troveremo nel prossimo mese anche 7 uscite per quanto riguarda Dynit E iniziamo con la nuova uscita di Beck I ragazzi che mi seguono su Twitch nonché anche sul gruppo Telegram Hanno le scatole piene per quanto io continui a consigliare questa nuova edizione di questo manga Veramente fantastico Si tratterà di un 2 in 1 al prezzo di 12,90 euro Quindi per essere Dynit diciamo che ci può stare anche come prezzo Border 66 dopo aver visto anche la variant del numero 1 Feltrinelli Arriva col volume numero 2 Mentre il 3 giugno dovrebbe debuttare Tommy La Stella dei Giant E dentro fine giugno si vocifera potrebbe arrivare anche il volume numero 2 Hello Spank e Okami Riese Anche loro a cavallo tra maggio e giugno dovrebbero uscire col volume 2 E poi nel corso del mese di giugno arrivare con il terzo Gli ultimi due titoli sono GTO Bla Black Edition col volume numero 6 E Vampires con il suo volume numero 7 Passiamo ora a J-Pop che farà debuttare Alabaster di Osamu Tezuka Ed ovviamente ci verrà presentato nella classica edizione dell'Osamushi Dopo aver visto la variant preordinabile su Manga Yo Dovrebbe arrivare, dovrebbe essere giunto il momento Almeno io me lo auguro, di Blue Giant con il primo numero Negi Aruba, autrice di The Quintessential Queen Tuplets Torna in Italia con una nuova serie Ovvero Ranger Reject Ed acquistando i primi 5 volumi In omaggio con ognuno di essi ci sarà una cartolina raffigurante una delle 5 gemelline Debutterà anche un nuovo shoujo, ovvero i fratelli Yuzuki Serie che attualmente conta 10 numeri ed è ancora in corso Proseguiranno anche Alice in Borderland e I Am A Hero Entrambi giunti al volume numero 3 E di Anna Zawa arriverà anche il volume numero 3 di Under Ninja Volume 3 anche per Chocolatier, Cioccolata per un Cuore Spezzato Dance, Dance, Dancer Love, Afterward, Domination E Shouwa Continueranno anche le classiche serie mensili Come Comic & Communicate che arriva al volume numero 19 Tokyo Revengers col volume 16 Non Tormentarmi Nagatoro il volume numero 9 E Misco Bayashi's Dragon Maid che arriva al settimo Tornerà ad uscire anche Atom The Beginning con il volume numero 13 Golden Kamui, ormai prossimo alla conclusione possiamo dire mancano pochissimi numeri Uscirà col volume 27 Radiant arriva al volume 16 Kasane arriva al penultimo numero uscendo con il tredicesimo Kemono Jeanne arriva al volume numero 11 Renta Girlfriend al volume numero 9 E Shadow House al volume numero 8 Ovviamente sempre con le fantastiche cartoline che ci vengono date in omaggio a ogni volume My Dress Up Darling uscirà col volume numero 4 Blue Period col volume numero 11 Mission Yosakura Family col volume numero 6 Troviamo anche il secondo numero di Smile Down Their Away Serie che abbiamo visto debuttare proprio questa settimana Concludiamo anche qua con la carrellata finale di titoli per quanto riguarda J-pop E troviamo il ritorno dopo una vita di Servamp col volume numero 17 Buddha facente parte anche questo dell'Osamushi Collection con il quarto numero Kingdom volume numero 52 Mentre per quanto riguarda i Boys Love abbiamo Kanis Dear Mr. Utter il volume numero 2 Jujin Omega vs Remnant volume numero 6 La conclusione di Kasteven con l'ottavo numero Il volume unico Hyper Ventilation Ed il debutto di Happy Shitty Life Ora passiamo a Magic Press Dove troveremo il secondo numero di 36.000 secondi al giorno Ed è Eminence in The Shadow Finder arriva all'undicesimo numero Il buio oltre la finestra triangolare al volume 5 Così come Last Game Mentre Skip Beat, ultimo titolo per Magic Press Arriva al volume numero 15 Passiamo ora a Flashbook Che riporterà nelle fumetterie Given Un Boys Love da quello che so io Apprezzato da tantissimi e tantissime fan Con il settimo numero Debutterà Anti-Romance Ed arriverà anche il secondo volume di Itzuya San Quattro debutti per Icari Iniziamo da Gonagai Horror Una raccolta di capitoli a tinte horror Scritte dal maestro Terrarium Un seinen fantascientifico in quattro volumi Distrutta dal tuo amore Un seinen drammatico che ha come fulcro della storia il bullismo E cinema Racconto di un uomo affezionato appunto ad un cinema Che sta per chiudere i battenti Susano Ho, sempre di Gonagai Arriva invece con il secondo numero Mentre resta viva ma non certa La speranza di ritrovare Gannibal il volume numero 5 Ora passiamo alla parte più difficile di questo video Ovvero Goen Infatti è quasi impossibile immaginare cosa questa casa editrice Cioè butterà fuori nel corso del mese di giugno Diciamo che faccio un recap di alcuni dei titoli che hanno annunciato Ma che non hanno ancora dato segni di vita Ad esempio Barakamon Il loro ultimo viaggio Non mi stuzzicare Takagi Così carina Stringimi Il gioco di Ciaia Ma per quest'ultimo forse c'è qualche speranza in più Visto che comunque attraverso le pagine dell'ultimo catalogo Mega Sono stati rivelati alcuni dettagli abbastanza precisi Quindi se dovessi scommettere qualcosina Direi che uno dei primi che vedremo è proprio il gioco di Ciaia Personalmente inoltre mi auguro che proseguiranno Drifting Netcafè e Lunatic Circus Con i rispettivi volumi numero 2 Perché i primi numeri di entrambi mi sono piaciuti veramente veramente un sacco Anche se il titolo di Furuya bisogna dire che è abbastanza difficile vederlo Poiché ci sono soltanto due numeri pubblicati anche in Giappone Concludiamo come sempre con Planet Manga E visto che non l'abbiamo visto a maggio Giugno potrebbe essere il mese giusto per vedere la nuova edizione di Eden Una serie in 9 volumi al prezzo di 24 euro a volume Ed il primo numero potrà essere acquistato anche in bundle Con il volume numero 1 di Soft Metal Vampire Dallo stesso autore Quest'ultima serie naturalmente potrà essere acquistata anche singolarmente con la cover regular Il prezzo è quello di 7 euro e sarà composta da 6 volumi la serie completa Un altro titolo che non abbiamo visto lo scorso mese Quindi possiamo ipotizzare che arriverà a giugno Se è lo spin off di Atelier of WeChat Ovvero Kitchen of WeChat Democratia, una serie già edita da Planet in 5 volumi A giugno arriverà con un 5 in 1 con una complete edition Giugno sarà anche il mese di debutto per Yu-Gi-Oh! Nella sua nuova versione 3 in 1 questa volta Che avrà lo stesso identico formato di Eyeshield 21 Altra novità del prossimo mese sarà Boys Abyss Un seinen drammatico che promette di rappresentare i piccoli momenti di vita quotidiana E capire il significato di vivere il presente Come detto, giugno è anche il Pride Month Di conseguenza, anche Planet, come le altre case editrici che abbiamo già nominato fino adesso Presenteranno parecchi Boys Love Ci sarà il volume unico di Rail, il volume 1 di My Toy Boy e di Our True Color Che arriverà anche in Kofanetto comprendente i tre numeri della serie completa So Rairo Flutter uscirà sempre con il primo numero Ora passiamo alle serie invece che dovrebbero continuare E iniziamo con Fullmetal Alchemist Con i numeri 11 e 12 Altro titolo che potrebbe vedere due volumi è Eyeshield 21 con i numeri 3 e 4 A giugno si concluderà anche Chainsaw Man Con l'uscita del volume numero 11 Che sarà acquistabile sia singolarmente sia inclusa in un Kofanetto Che andrà così a racchiudere l'intera serie E addirittura per chi volesse recuperare la serie completa Uscirà anche un Kofanetto completo con tutti e 11 i volumi Si concluderanno Batman e la Justice League con il volume numero 4 We Never Learn con il numero 21 E forse qua voglio usare il condizionale Anche City Hunter perché dovrebbero uscire sia il volume numero 11 E sia il volume numero 12 Come sempre continuano anche moltissime serie Sempre almeno in linea teorica Iniziamo con Agente 008 il volume numero 13 Blue Lock il volume 10 Che dovrebbe uscire tra l'altro settimana prossima se tutto va bene Bungo Stray Dogs Beast Demon Slave e Kingdom Hearts Silver Usciranno tutti con il volume numero 3 Jujutsu Kaisen arriva al numero 14 Mentre One Punch Man slittato nuovamente per altre settimane Non sappiamo adesso la data di uscita Potrebbe essere settimana prossima ma non ci metterei la mano sul fuoco Arriva col volume numero 24 Volume numero 4 in arrivo anche per Planet of the Fools Il volume 5 per L'Immortale e Il Libro dell'Era Bakumatsu E Sherlock che torna dopo tantissimo tempo Ricordo che è un adattamento della serie TV Assassin's Creed Dynasty arriva al volume numero 2 Così come Ma che sfacciato Sasaki e Miano E Toilet Stories Domestic Girlfriend uscirà con il 27esimo numero Drifting Dragons con il 12esimo L'Usuraio con il 35esimo Mentre Mushoku Tensei rimane un pochettino un mistero Perché questo numero 9 va e viene dal sito Planet Però cerchiamo di essere ottimisti E dire che a giugno usciranno sia il 9 che il 10 Voglio sbilanciarmi su Mushoku Tensei Nobiltà Contadina arriva al volume numero 7 Sakamoto Days uscirà con il secondo numero Sempre con Cover Regular oppure la Variant Qui ho inabbinato questa volta la Shopper Bag e la Pribottiglia Twin Star Exorcist uscirà con il 26esimo Mentre tante altre serie che sono slittate da maggio a giugno Sono Afro Samurai la Complete Edition Asadora il volume numero 6 Perfect Crime 12 E Proteggi la mia terra il volume numero 2 Se me ne sono dimenticata qualcuna ragazzi Scrivetelo qua sotto ma non prendetevela a male Perché veramente ricordarsi tutte le uscite Tutto quello che slitta è parecchio parecchio complesso Io vi ringrazio di cuore per aver guardato questo video Vi chiedo soltanto come sempre di lasciare un like E di iscrivervi al canale Per voi un gesto completamente gratuito Per me il supporto più grande che mi possiate dare Detto questo fatemi sapere quali sono i titoli Che volete maggiormente Che acquisterete quasi sicuramente E io ringraziandovi nuovamente Vi auguro una buona serata E ci sentiamo al prossimo video Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti